Attualmente siamo arrivati a circa 900 coperte, l'obiettivo è di averne 1.248 per ricoprire la parte di Piazza Duomo che ci ha concesso a coprire. Ha fatto riscoprire il piacere del lavoro fatto a mano, a maglia e a uncinetto, a tante donne anche giovani, che hanno deciso di dare il loro contributo per combattere la violenza contro le donne. È sbarcato a Crema a fine febbraio il progetto Viva Vittoria, che ha la finalità pratica di creare un'opera relazionale condivisa, una grandissima coperta costituita di tanti quadrati colorati e assemblati, che il 19 novembre copriranno Piazza Duomo, un'installazione artistica che sottende altri obiettivi. L'obiettivo principale era quello di mettere in relazione donne, gruppi di donne, e noi sappiamo che in Crema e nel circondario ci sono veramente tantissimi gruppi che stanno lavorando per Viva Vittoria. Naturalmente l'altro obiettivo molto importante è l'aiuto all'Associazione Donne contro la violenza. Il progetto Viva Vittoria è organizzato dall'Associazione Donne contro la violenza e il ricavato dalla vendita delle coperte verrà quindi utilizzato a favore delle donne che subiscono violenza. A chiunque voglia partecipare viene chiesto di realizzare ai ferri o all'uncinetto un quadrato in maglia di 50 cm per 50 da firmare con il proprio nome. Noi assembleremo quattro quadrati e faremo 1248 coperte di un metro quadrato. Lana e cotone sono stati messi a disposizione gratuitamente da sponsor generosi, ma ne servono ancora. Chiaramente non è ancora finito questo progetto, siamo già a buon punto ma ancora tanto c'è da fare. Di conseguenza chiediamo a chiunque può partecipare a questa iniziativa donandoci quello che vogliono, che vorranno per acquistare la lana per ultimare appunto questo progetto. Grazie.